Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio Euromedia Research del 26 di luglio del 2021. Primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 20,2, perde lo 0,3. Secondo partito La Lega di Matteo Salvini al 20,1 che perde lo 0,2. Partito Democratico terzo partito che perde lo 0,4 al 19,1%. Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,9 ed è al 15,2. Forza Italia di Berlusconi guadagna lo 0,3 ed è al 7,8. Azione perde lo 0,5 ed è al 3,3. Italia Viva perde lo 0,4 ed è al 2,1. MDP articolo 1 guadagna lo 0,1 ed è all'1,9. Più Europa all'1,8. Sinistra italiana 1,7. Federazioni Verdi Europa verde 1,6. Altri di centrodestra 1,3. Altri in generale 3,9. Indecisi meno 0,4 sono al 34,3%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.